Ciao, sono Cristiano Libardi, questo è BallonpartTV. Oggi voglio presentarvi un articolo molto importante. Importante perché la legislazione europea ci limiterà l'utilizzo della plastica, quindi noi dovremo cambiare le nostre abitudini e i nostri acquisti. Noi come operatori del settore dobbiamo farci trovare pronti. Un prodotto come la bacchetta in plastica fra un po' non potrà essere utilizzato. Quindi vi presentiamo il Ballon Gris, è un porta palloncino, una valida alternativa alla bacchetta in plastica in cartoncino, quindi ecologico e molto economico. Nasce Ballon Gris, un'alternativa riciclabile, economica ed ecologica alla bacchetta in plastica. Ed oggi vi faccio vedere come può essere utilizzata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.